Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove in direzione Firenze ci sono 3 km di coda per i lavori di miglioramento della sicurezza tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina e 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. Rallentamenti per lavori tra la Strassigna e Ginestra in direzione Livorno. In A11 in direzione Firenze rallentamenti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Per la viabilità cittadina Firenze oggi in via degli arcipressi restringimenti di carreggiata per lavori di asfaltatura. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!